Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di ABB Oggi vi farò vedere come guadagnare Joker Tickets facendo 15 sfide Ovviamente non le farò tutte oggi, vi farò vedere come si fanno le sfide Innanzitutto per entrare in un Social District Sì, Social District Fight Club vi servirà quasi sempre O un cecchino, o un fucile a pompa Se siete molto bravi, che so, prendete un fucile a pompa, quello stabba O la mitragliatrice, quella stabba, se ce l'avete avanzata Se no, meglio di, meglio non fare niente Ma proprio niente, ma proprio proprio niente Top 10% Ok, ok Allora, qui si ottengono 100 Joker Tickets Sto facendo 15 attività Qui 40 e qui, non so, 23 attività Vabbè, bisogna fare molte attività in poche parole Bene, andiamo Appena entrerete il vostro vestigio aumenterà Ok, sono già iniziato male perché Ok, già iniziato malissimo Malissimo proprio Malissimo proprio Il laggo come una bestia Ok L'ho messo anche nel posto in cui a me sta più congeniale Devo fare due nemici con la pistola Stop e vi faccio vedere quando sarò uno Ragazzi ci sono andato vicino Stavo per killare un nemico con la pistola Uno di quei soliti scicchini camper Lo stavo per ammazzare ma un mio amico me l'ha soffiato Ho beccato l'assist come potete vedere in fondo E andiamo avanti Ok, io ho effettuato un piccolo cambio di granate Granate a percussione L'ho sostituito con quelle normali, standard Che per il momento potrebbero essere più utili Quindi andiamo avanti Let's go Ogni volta che morirò Oppure che killerò qualcuno Vi riprenderò il video per farvelo vedere Per giustizia Compitare queste sfide con la pistola è molto difficile Perché essendo che io ho la prima E non ho nemmeno così tanti soldi da spiegarci Di pistole Diciamo che a me è più congeniale Mi sa che non lo riesco a piani Ok, infatti me lo dice quando non posso prendere qualcuno Cazzo Mi ha one shotato con lo sniper dai 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 per i criminali bello che non fa niente se uccidono un loro amico mentre invece per noi se uccidiamo il nostro amico tipo ce ne è fatto una penalità di tutto no sta qualche colpettino no oh ok lì c'è mi sembra di aver visto uno sniper accidenti mi dovevo tenere buon atterraggio non lo dovevo ripendere si perchè adesso non ho nemmeno super sweet perchè me lo sollevato e non mi serviva più a molto devo prendere assolutamente super sweet 2 volevo super sweet 2 non ce l'ho fatta ad arrivarci con i soldi mi sono preso un'altra macchina perchè quella inizia diciamo serve poco a nulla dai vediamo chi vince cos'è arretri il bastardo aia bastardo quello la non è ruppino vivo allora mi avevo visto quella vabbè con lo scudo comunque ragazzi la mia scheda grafica non supporta delle queste meccaniche di gioco c'è le direct x non so perchè quindi tra tra poco diciamo tra qualche mese mi riprenderò una scheda grafica un pochino più pesante cioè pesante più forte che è una scheda grafica 670 e dai rigenera perché così tanto dio santo eh si alle lag un attimo stop e vi farò vedere quando sarò riuscito a fare una kill con la pistola con la pistola ok ragazzi l'ho skippato perchè non riuscivo a farne nemmeno una qui non non sono tutti camper quindi non glielo faccio a farglielo di nascosto quindi ho preso tre assist facciamoli e vediamo come ci andrà a finire ok ragazzi ho fatto la prima assist sono parecchio difficile perchè ogni volta che tu ti proponi di fare un assist è sempre un casino però la battaglia ancora non è finita perchè c'è ricercato livello 5 come pikachu no accidenti mi riuscito ancora ad abituare con la shotgun più gli stai lontano meglio quanto vale un attimo ragazzi ok adesso metto il timer perchè non non posso farlo durare più di tanto poi in caso vi farò vedere ciò ho fatto perchè ne ho fatte due di quindici e devo fare assist non kill quindi hanno richiamato bla 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 contro di te guarda la mia macchina macchino non so mica io voglio leggere sta merda a mio entrare in macchina ok e a simo ce l'ha pure come se non bastasse il fatto che non so un pro ok figurati chi è un pro dai qualcuno li ha ma sì così me la assist alle un assist oh oh ma perché quella si è spawnata proprio qui in questo secondo c'è che senso ha io sto combattendo questa si spawna è geniale boh ale 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 vai ecco alcuni mi sa che usano line bot cioè che l'ho conosciuto lo sono andato a guardare su internet perché non riuscivo a capire come riuscivano a beccarmi anche se stavo dietro una macchina perché mi giappavo nei piedi giustamente con line bot praticamente i colpi sono delle guidate e come vada a finire va a finire e ammazza comunque il bersaglio e adesso se qualcuno ce lancia la granadozza due granadozze tre granadozze invece faccio qualche assist si è perché io non mi posso rispawnare invece qui nella battaglia mi sono rispawnato perché non mi sceglie lui dio jesus dai so due assist uno gli farò fallo fidati fidati del rosa che i tuoi assist svaniscono perché l'ho ucciso io non lo volevo uccidere ecco scappa da dietro no tanto non è che mi cazzo se mi fai dadadadadada è anche canza quale qui no non ce l'inganno no 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 eh mo non me lagga questa brucia ha fatto la strage quando non lagga non lagga amico occhi il mio computer si può di tutto tranne che non sia fedele ormai ero andato tipo in furia omicida ne ho ammazzato 57 di fila io non volevo morire dai è va dream peccato che io non li devo uccidere gli devo dare solamente un piccolo colpetto tipo una scorreggia o qualcosa che mi possa mi permetta poi di far mi prendere un ass east brava sporgi la testolina brava è proprio così che si fa ooooh ecco lag lo stavo pure ad ammazzare gli avevo dato un colpo proprio sul deretano sul deretano sul deretano sul deretano qui devo riuscire a fare qualche assist devo pensare solamente a fare cecchino con la pistoletta come nabbi in un punto come se non ci fosse un domani ti pareva io potrei mai salire in pace su degli scatoloni ma certo che no dai un ultimo assist così posso concludere sto video assist datemi un assist voglio solo un assist scansati genius genius dove è andata a finire scomparsa ecco dove eri eh ammazzatela dimmi che l'ha ammazzato dimmi che mi ha dato un assist jesus preside jesus non mi sa che non mi ha dato nessun assist no lì non ci vado perchè non ci stanno i miei amici devo andare in punti in cui non ci stanno dove ci stanno i miei amici voglio dire che se ce la faccio mi ti do regrado uno devo riuscire a fare un assist assist datemi l'assist il più grande assist che la storia avrà no devo ricordarmi di caricarla quest'arma perchè sembra troppo bella se di ricomprarla volevo di ricaricarla dai che se forse la seguo come un cane lei si accorgerà di me riesco a dargli qualche botta jesus price the jesus the jesus of the story and glory no so caduto così a random cederbolina 4 3 2 1 dai responati responati qui eh stavolta non mi hai fregato stavolta non mi hai fregato non mi hai fregato no come ha fatto io vorrei sapere mi ha scaricato una cosa da un milione di colpi in un secondo mi sparo mi sparo 2 no non è possibile no dai voglio un ultimo assist così concludo qui il video dai 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 assist 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 abbastardaggi perché scappano tutti io vorrei un assist cioè do un colpettino a uno tipo una scorreggio una cosa del genere vado a un nuovo assist 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 spawn non posso credere valgano pure i decimi di secondo in questo gioco se è così dovrà essere così è giusto che sia così no maledetto mouse svirgolette che mi fa vorrei provare quello con la pallina sicuramente che quello con la pallina io ce l'ho rotto si si respawnami qua però muovi a respawnarmi per prima cosa ha dei respawn ha ier blood and glory non so perchè non l'ho giappato scusate ma devo stoppare finchè non becco assist si è la prima volta che sono felice di morire jesus ce l'ho fatta 4 3 2 ziranzo ce l'ho fatta infatti vedete me l'ha cambiata con quella di prima killare i due nemici with the pistol aia si vai adesso gli assist vengono come se piovesse e direi di salutarci boom boom perchè stai esplodendo tutto qui si vai prima non ci sono con la pistola lag così a caso inizio a sparare lag ma non fai niente perchè abbiamo finalmente siamo siamo abbiamo finalmente abbiamo finalmente cosa ma quando ma dove ma perchè siamo finalmente riusciti a ottenere qualche kill con la pistola cosa che era anche un po' impossibile da fare stopp finchè non ne faccio un'altra e finiamo qui il video perchè non penso che riuscirò a fare altre sfide dei jokers ok ce l'ho fatta ragazzi adesso devo fare un'uccisione con granata non so perchè non mi era mai capitato un'uccisione del genere c'è nel senso una sfida del genere se zanzare tanto le uccisioni con granate con le percussioni dovrebbero essere abbastanza facili abbastanza stupendo qui dovremmo essere sul vuote front in cui succede un casino di front qui la gente si continua a respawn su questi due punti quindi guardate guardate il mio sparo che ha fatto cilecca in una maniera tuttale cilecca uno beh no dai ci hanno fregato con lì il punto di respawn respawn quando vi fregano il punto di respawn sapete che la battaglia è andata male in una maniera tuttotale maia ok ci stanno massacrando no meglio andare qui per sicurezza non si sa male non posso continuare a lanciare granate a cazzo devo pensare a un modo per eccitante queste maledette sfide sono un casino prima le avrei potute prendere d'occhi chiusi le granate a percussioni che saprei che avrei potuto usarle in qualsiasi momento adesso un casino abnorme ok non ha funzionato ci provo un'ultima volta e direi di finire qui la parte perché sta durando anche troppo perché anche come tutorial dovrebbe essere un tutorial breve solamente le parti interessanti sta durando sta durando un po' troppo questi con i cecchini servono solamente a fare assist praticamente a meno che uno non è davvero tanto bravo che gli riesce a dare due botte io muoio al riparo 4 3 1 1 0 1 qui responso respononso 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 ma li ho detto ci stavo a sparare pensavo fosse un nemico sì anche questo è fatta e ci vediamo la prossima con forse qualche co-op chi lo sa da pb e molto probabilmente smetterò finalmente di fare nelle prossime parti ovviamente queste medaglie jogger no 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 e vabbè ci vediamo alla prossima ragazzi ciao a tutti qui da Omega Cifri ciao